5 dicembre 1890. Nasce a Vienna il regista e sceneggiatore Fritz Lang. Terminata la prima guerra mondiale, Fritz Lang si accosta al cinema. Negli anni venti scrive insieme alla moglie le sceneggiature dei suoi film più celebri come Il dottor Mabuse, Metropolis e M, il mostro di Dusseldorf che è il suo primo film sonoro. Con la salita al potere del nazismo Fritz Lang lascia la Germania per l'America. Negli Stati Uniti gira nuovi successi come Furia, Sono innocente, La donna del ritratto, La strada scarlatta e Il grande caldo.